Vediamo un flowchart, un diagramma di flusso, per andare a calcolare l'area e il perimetro di un rettangolo. Infatti come test esercizio è calcolare il perimetro di un rettangolo con valori impostati. Allora, come vediamo, il diagramma di flusso parte con un indice, che è lo start. Le frecce danno il senso dell'ordinamento. Il rettangolo semplice indica semplicemente un'assegnazione, mentre il rettangolo fatto con le doppie sbarre indica il richiamo di funzioni o procedure. Quindi come possiamo vedere, qui abbiamo semplicemente l'inizio, l'assegnazione di due variabili, poi un'altra variabile che è area assegnata mediante una funzione, anzi una procedura, poi una procedura di messaggio calcolato, una procedura per il perimetro, o meglio un'altra funzione per il perimetro e un'altra procedura per il messaggio calcolato. In dettaglio possiamo andare a vedere anche ogni singola funzione o procedura. Come vediamo, la funzione calcolaria ha due date in ingresso di tipo intero, poi noi ne faremo due uguali, una con i tipi reali e una con i tipi interi, così iniziamo a dare anche la visione di concetto di polimorfismo. Semplicemente start e ritorna, restituisce il valore di aria calcolata, facendo la moltiplicazione di base per altezza. E poi come vediamo, la funzione termina con il termine torna. Meglio, questo perché? Perché la funzione stessa termina, ma non il programma, quindi torna, dove torna? Torna al programma completo, al programma principale, e questo è il main, tant'è che come vedete il main invece termina con fine o end. Dopo, questa è la calcola perimetro, che è praticamente uguale alla calcolaria, cambia semplicemente il calcolo. Dopo abbiamo due procedure di messaggio, una è il messaggio calcolato, dove riceve due dati in ingresso, un intero e uno string, e ha una variabile locale, che è chiamata testo messaggio locale. Quindi questa cosa fa? Non fa altro che inserire all'interno di testo messaggio locale, il testo del messaggio più la conversione del tipo di dato inserito, quindi il dato intero, e inoltre richiama un'altra procedura, che richiameremo messaggio, che è questa, e la procedura messaggio non fa altro che avere in ingresso una stringa, e questo simbolo qui fatto a parallelo pipedo è una procedura di output. sono fatte così sia le output che le input. Ovviamente si può identificare anche una O o una I a bordo della nostra figura geometrica, per far capire meglio se è un output o un input. Ma adesso andiamo a vedere in dettaglio come si può fare. Apriamo il nostro Visual Studio, e creiamo un nuovo progetto. Andiamo a creare un nuovo progetto, e come prima cosa andremo a creare una libreria di classi. Libreria di classi, che la inseriremo all'interno della cartella librerie. Come vedete io la creo direttamente usando il percorso. E come nome vi daremo lib underscore geometria piana. e diamo ok. In modo tale che il nostro software inizi a caricare tutto il programma. Bene, come vediamo, a differenza dell'altra volta, qui non abbiamo un metodo main, abbiamo semplicemente le nostre using, e public class class 1. Allora, questo class 1 non lo andiamo a rinominare, e scriveremo geometria piana. Geometria Lui vi dirà volete rinominare tutto? Dategli di sì, altrimenti non funziona come era. Andiamo sopra le using, e scriviamo i nostri commenti. Quindi autore met ground lo mettiamo data oggi per me è il 7 dicembre 2015 Continuando ad andare sotto diamo oggetto e scriviamo in direzione di primeria geometria piana e funzioni 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 scrivo non so perché funzioni di calcola non scriviamolo come è da un essere scritto calcola area e calcola perimetro poi andremo di aggiustarla e poi il nostro changelog che anch'esso momentanamente lo lasciamo giusto senza scrivere niente ecco una volta inseriti i commenti andiamo a creare le nostre funzioni quindi possiamo tranquillamente seguire il nostro schema quindi andiamo a vedere come è la nostra procedura di calcolare alla 10 la nostra funzione calcola area vuole due dati in ingresso quindi base intero e altezza intero e andiamo direttamente a scriverlo quindi public int calcola area aperta parentesi seconda int base che è un termine proprietario non potete usarlo quindi possiamo scrivere int b giusto per abbiagarlo come facciamo in geometria e int at se abbiamo base e altezza apriamo e chiamiamo la parentesi tonda e diamo direttamente il nostro return che non sarebbe nient'altro che questo return calcolare a base per altezza cioè calcolare restituisce il valore di base per altezza return b per h e questa è finita adesso possiamo scrivere direttamente anche la calcola perimetro che fondamentalmente è uguale cambia semplicemente la formula quindi ritorniamo nel nostro visual studio e scriviamo public int calcola perimetro mettiamo int d int h andiamo sotto aprendo le nostre parentesi e return aperta parentesi b più h per 2 ovviamente la formula per calcolare il perimetro del rettangolo è base per altezza per 2 andiamo a compilare la nostra soluzione mi raccomando visual studio potete fare ctrl cpd se no andate direttamente su compile e compila soluzione come vedete la compilazione è avvenuta senza problemi e questa la lasciamo qui aperta adesso andiamo a creare una nuova finestra di visual studio e andremo a crearci un altro progetto libreria in questo caso andremo a fare i messaggi quindi sempre libreria di classe nella cartella librerie e scrivere scriveremo lib messaggi diamo a invio e automaticamente anche qui ci crea il progetto andiamo nella gemeria piana così ci copriamo i commenti e cambiamo semplicemente l'oggetto imparate che in visual studio dobbiamo andare a lavorare ah sbagliate no dobbiamo andare a lavorare con più sessioni aperte per agevolarci perché tanto succederà spesso che dobbiamo andare a modificare o guardare o controllare le porzioni di codici che si fanno parte di alcune librerie o di altri o di altri file quindi teniamo una perte che tanto si può fare tranquillamente e vedrete che avrà dei benefici allora trazione libreria messaggi e mettiamo anche qui procedure messaggio calcolato e messaggio queste sono procedure vi ricordate quindi saranno sicuramente void e non restituiranno niente non hanno bisogno di un retardo andiamo a modificare anche qui il nostro nome della classe e scriviamo messaggi ovviamente rinominiamo tutti i riferimenti altrimenti poi ci sarebbe da rinominati a mano ci vuole un secolo comunque sia vabbè si può fare anche in altre maniere ma non è questo il nostro obiettivo la messaggio andiamo direttamente a vedere la messaggio ce ne abbiamo due abbiamo la messaggio calcolato che è quella un po' più complessa come vedete abbiamo due dati in ingresso uno di tipo tstring e un altro di tipo tind più una variabile locale che adesso qui non l'avevo scritto comunque sia di tipo stringa ci scriviamo adesso tstring e andiamo a creare questa prima parte torniamo nella nostra libreria messaggi e scriviamo public void messaggio aperta parentesi string come l'abbiamo chiamato testo messaggio testo messaggio come vedete la notazione da quale scrivo le variabili sempre la solita tutte attaccate la prima lettera minuscola e la prima della prima lettera della seconda parola minuscola e poi l'intero dato andiamo qui sotto e momentaneamente ah no questo era scusate questo era la messaggio calcolato allora vabbè si la possiamo scrivere ugualmente messaggio calcolato poi poi avremo una variabile di tipo string che sarà come l'abbiamo chiamata se rimaniamo coerenti noi cambiamo testo messaggio locale string testo messaggio locale ecco adesso il nostro flowchart cosa si dice bene in testo messaggio locale poi ci deve inserire il testo del messaggio più la conversione del dato niente di più semplice quindi mettiamo testo messaggio locale sarà uguale a testo messaggio più dato punto to string to string è un metodo che restituisce una stringa da un valore numerico dopodiché continuando a seguire il nostro flowchart dice che dovrei richiamare la procedura messaggio procedura messaggio che ancora non abbiamo fatto quindi niente però ci vieta di poterla scrivere ugualmente anzi la scriviamo quindi faremo messaggio vedrete che darà errore adesso lui mi ha scritto messaggio calcolato perché dice no guarda sta sbagliando la messaggio non esiste e all'interno ci mettiamo la testo messaggio locale e chiudiamo con un punto di ovviamente qui a lui non piace assolutamente quindi adesso andiamo sotto e scriviamo direttamente la procedura messaggio quindi anche qui public void messaggio andiamo a controllare il messaggio cosa ci richiede in ingresso il messaggio di tipo tstring quindi un tipo string all'ingresso allora string messaggio andiamo avanti e questa cosa farà come abbiamo visto fa l'output del messaggio l'output come abbiamo visto anche in lezioni precedenti si fa col console write line perché noi continueremo per ora a fare sempre applicazioni console e dopo di che ritorna quindi niente più semplice semplicemente un bel console.write line cosa? messaggio ecco fatto punto e bimbo come vedete anche la procedura sovrastante non dà più errore perché ha detto ah ok ho visto che c'è la messaggio quindi adesso sono apporto i dati inseriti sono corretti perché tu vuoi una stringa io ho inserito una stringa quindi posso andare compiliamo anche questa soluzione e apriamo una nuova finestra di libro a studio facciamo un nuovo progetto stiamo attenti a uscire adesso dalla cartella librerie perché non andremo a fare un'altra libreria ma andremo a fare la nostra applicazione console e diamo ok ancora una volta i commenti ce li ricopriamo pari pari e a oggetto ovviamente ci scriveremo calcolare area e perimetro di un rettangli con base ed altezza pari perché questi decidiamo noi non facciamo non lo facciamo fare da loro allora in questa nella classe del main non vi faccio cambiare praticamente niente per quanto riguarda nomi e vi riscontendo non è una cosa che mi interessa però vi faccio inserire due riferimenti i riferimenti non sono altro che le nostre librerie sono le nostre librerie quindi dobbiamo fare col tasto adesso del mouse aggiungi riferimenti su sfoglia e andiamo nella cartella e andiamo nella cartella dove avete salvato la roba io per esempio questa l'ho sul desktop corso eccola qua librerie e mettiamo la libreria messaggi bin debug percorso va fatto tutto e diamo aggiungi e anche la geometria piana quindi torniamo in su andiamo sul lib geometria piana bin debug che è geometria piana dll mi raccomando la dll è dove che si è tanto ma quell'altro non me ne sarà inserita e diamo ok a questo punto i nostri riferimenti sono agganciati ma ancora non si possono usare perché lui dice si me l'hai messi ma io non li trovo da tutte poi dobbiamo andare a aggiungerli qui con il termine using non safe using e l'abbiamo chiamato lib eccole vi vedete messaggi e using lib geometria piana in questo modo sono agganciate quindi noi possiamo usare le funzioni e le procedure di queste librerie allora iniziamo a scrivere il nostro programma quindi andiamo a vedere flowchart abbiamo due dati di tipo intero che sono b e h di valori 20 e 6 più altri due dati altri due variabili che saranno area e perine quindi iniziamo a scrivere le nostre variabili int b uguale 20 int h uguale non mi ricordo più serie poi int area qui possiamo fare due righe o scriverlo su una riga io generalmente quelle non inizializzate le scrivo su una riga no ma inizialmente scriviamole su due righe vabbè se ci facciamo meno confusione e int perimetro bene quindi dobbiamo inizializzare il tutto adesso dobbiamo mettere cosa il valore di aia in area quindi facciamo area è uguale a cosa a geometria piana punto e guardatevi il gancho non c'è niente sapete perché non c'è niente perché quando noi abbiamo vi ricordate la lezione in cui avevo provato a levare lo static lo static davanti al void e tutto si era un po' riavviato non funzionando più perché potete sapere che una funzione static vuole sempre e comunque riavere un tipo di dato statico quindi noi mettiamo e poi ovviamente ricompiliamo static e anche di sotto sulla calcola perimetro static e poi andiamo a ricompilare ora guardate che altro poi lo static ve lo spiegherò per bene perché è abbastanza carino come metodo ma non ho dato il nome alla console application ma quello è un po' male e adesso come vedete abbiamo il calcolare ovviamente per la messaggio andrà fatto lo stesso poi quindi int b e int h quindi mettiamo b e h perché corrispondono ai nostri nomi così ci agevoliamo il compito ecco qua adesso l'area come vedete non è più sottolineata di verde ma ha un valore ben preciso andiamo avanti messaggio calcolato l'area messaggio calcolato prima ancora di andare a fargli vedere che ovviamente non ce lo vede lo andiamo a mettere static e compiliamo sì giustamente static ecco fatto static sopra static sotto tutto static per ora mettiamo quindi andiamo sotto e scriviamo cosa messaggi eccola qui punto messaggio calcolato string messaggio quindi lo metteremo l'area vale due punti lasciamo uno spazio che non fa tutto attaccato mettiamo una virgola e inseriamo il dato che è il nostro area sotto per la perimetro è esempio quindi perimetro è uguale a geometria piana punto calcola perimetro ovviamente i dati sono sempre due interi b e h e terminiamo con un punto e virgola come vedete i riferimenti alle librerie lo mette addirittura di un altro colore per evidenziarlo perché sono diventate a questo punto parole chiave anche se l'abbiamo scritto noi andiamo sotto e scriviamo anche qui messaggi punto messaggio calcolato nuovamente testo messaggio e int da quindi clicchiamo le virgolette della stringa e mettiamo il perimetro vale virgola perimetro e terminiamo uno punto e da ultimo il nostro console.dk per non far terminare troppo alla svetta programma a questo punto domandiamo un'esecuzione dando f5 comunque sia da compile a debug ed ecco ed ecco che c'è qualcosa che non va perché no va benissimo invece 6 e 20 120 perché è 6 per 2 12 e 10 aggiungendolo 0 120 e il perimetro invece è 20 più 6 che so 26 per 2 53 come avete visto richiamando funzione e procedure senza andare a scrivere una marea di righe di codici per lo più uguali anche perché vedete immagini di differenza qui sotto ci dovete scrivere questo fai questo fai la moltiplicazione scrivi il messaggio convertilo con pochissime righe di codice grazie all'utilizzo delle nostre librerie che anche se sono molto ordinate come vediamo poi possiamo mettere commenti via via che scriviamo qualcosa ok ma già abbiamo i nostri riferimenti iniziali con i centri log grazie a queste librerie che possiamo richiamare in ogni programma quindi io non ho più bisogno di scrivere alcuna di questa funzione o procedura io in qualsiasi programma non faccio altro che agganciare la libreria e richiamare il nome e il metodo all'interno della libreria in modo tale che lui in automatico se io da calcolare il perimetro di un rettangolo in un x programma non dovrò andare a scrivere qualcosa che me lo calcoli ce l'ho già pronto aggancio solo alle librerie e quando manderò una compilazione lui mi aggancerà alla libreria facendo sì che quella funzione o quella procedura continui ad essere richiamata e avvenga così per qualsiasi altro tipo di programma come vedrete useremo molte librerie io almeno me le faccio sempre librerie tanto poi le cose che usa alla fine sono sempre abbastanza sono sempre abbastanza monotone una volta che l'ha scritto una volta ora per queste cose io ovviamente sono sciocchezze perché l'area perimetro è un calcolo veramente ma se noi dovessimo andare a fare dei lavori sulle liste sugli array sulle griglie quindi data di più e via discorrendo vedrete che le righe del codice iniziano a essere molte e ogni volta a scriverle a parte con il rischio di sbagliare perché basta con un errore involontario e dovreste andare a ricercare e soprattutto risparmiate una marea di tempo ciao per ora ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao